Quanti ragazzi seguite e con che risultati? Attualmente gli iscritti al centro attivi, diciamo così, sono intorno ai 200 utenti. I risultati sono in benessere nel riuscire a portare un ragazzino a scuola senza che la scuola sia un dramma per lui, per i genitori e per tutto il sistema familiare. I risultati sono anche di far vivere questa difficoltà come una ruga sul volto, senza che diventi una difficoltà pervasiva. Lei capisce bene che se faccio fatica a nuotare in piscina andrò 5 volte all'anno, ma a scuola si va tutti i giorni e ogni giorno io devo affrontare, guardare in faccia, sentire la frustrazione della mia difficoltà. Quindi questa è l'efficacia e se basiamo la mia risposta su questa efficacia, l'efficacia di serenità, di motivazione scolastica che aumenta, di approccio allo studio migliore, io le darei anche un buon 90-95%.